Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua su Venezia in TV, sulla prepace di World of Warcraft. Allora ragazzuoli, facciamo subitissimo le missioni che ci hanno dato, che ci danno naturalmente qua a Nordania. Infatti partiamo subito da qua. Ok, stessa cosa dell'Orda, pari pari, quindi andiamocene subito. Aspettate, prendo solo anche questo qua d'oggetto perché c'è la missione, perché questa ci serve. Ok, mi sorge il dubbio che sarà uguale sia dal punto di vista dell'Orda che dell'Alleanza, però comunque per evenienze io rifaccio lo stesso. Così siamo tranquilli. Però penso saranno secondo me similari. Ok ragazzi, prendiamoci le missioni. E vi vediamo. Vai. Purtroppo il problema qua, in questa parte qua, è che essendo che ci sono gli Alli, cioè c'è l'Orda, mi fanno veramente il mazzo. Perché mi attaccano subito in PvP e non c'ho voglia assolutamente di fare PvP adesso perché sto registrando. Il problema è che c'ho entrambi i personaggi, c'è tutti e due quelli dell'Alleanza, ce li ho in due server PvP, quindi è complicato. Molto complicato. Vai. Ottimo. C'è un po' troppa gente, eh, che mi sta rompendo le balle per adesso. Eh vabbè, facciamoci sto... C'è un po' troppa gente. C'è un po' troppa gente. C'è un po' troppa gente. Ma Dosca quanto fanno male tra tutte e due, oh. E' andata a spigolare, anche tu. Adesso vieni qua anche te. E non parliamo anche con te. Come minimo mi arrivano mille nemici addosso. Va a finire. Tanto per cambiare. Ok. Questo qui è aperto. Vai, il prossimo. Tanto curiamoci un attimo anche perché... Non siamo messi benissimo. Allora, cerchiamo altri da... Aprigli... Le catene. Uno è qua. Vabbè, venite qua su. Addirittura in due. Allora. Principe Keleset. Ah, eh. Si potrebbe anche andare a farlo, ragazzi. C'è, per meglio dire. Contando che ci saranno un casino di Orda, ci do giusto un colpo e basta. Me ne vado via. Sì, comunque andiamoci a farlo, va. Peccato perché mi salvano gli oggetti. Che droppa. Ok, vediamo un po' se riusciamo. Anche solo a darci un colpetto. Senza che ci attacchino in mille. Il problema è l'attacco di mille. Guarda, guardate quanta... Quanta Orda. Mamma mia. E infatti quelli dell'alleanza stanno su in piedi, stanno. Comunque questo qui è un server veramente pieno di Orda. Ma proprio pieno. Sono su Silvermoon, il server inglese. Perché avevo fatto qua il personaggio per farmare. Perché sapevo che era messo ottimamente a livello di vendite o altro. Il problema è... Eccolo. Era anseccato male il tipo. Scusa, amico mio, ma non ti posso dare una mano. Sono troppi là sotto. Sono veramente troppi del Lorda là sotto. Mizzica. E' come vedere, tipo, avete presente le mosche? Cioè, nel senso, sembrano... Un casino di quelli che uccidono le mosche. Ok. Ah, quindi anche se lo colpiscono non succede niente. Vediamo. Non me lo dà, vero? È grigio? È grigio. È niente. Ha fatto una hypercappellata. Quindi se lo prendono gli altri, noi non possiamo prenderlo. Buono a sapersi. Sta cosa non la sapevo. Sta cosa non la sapevo proprio. Che cavolata. Ok. Questa se la poteva risparmiare la blizzard, sinceramente. Cioè, potevano farlo fare a tutti. Però, beh. Niente. Solite cose. Non mettiamoci becco. Ok. Questi qua. Ci devono droppare altre cosine. Vediamo un po'. Sperando che non arrivi una lorda qua, da noi. Lo spero tanto. Ottimo. No, uno posso farlo qua. Ne mancherebbe ancora uno. Però... Non c'ho la chiave, quindi... Ce ne andiamo a prendere. Allora, ragazzi. Vi dico già una piccola cosa interessante. Che prossimamente intervisterò per quanto concerne a World of Warcraft. Un po' di ragazzi. Presentezza due team, diciamo. E parleremo, praticamente, della lore di World of Warcraft. Con due ragazzi. Invece con altri tre ragazzi. Parleremo di... Azzo. Aspettate che... Ecco, ti pareva. Vabbò. Mi hanno ammazzato tanto per cambiare. Dicevo, con due ragazzi. Parleremo della lore di World of Warcraft. Perché loro hanno un canale. Appunto, di World of Warcraft. Dove parlano della lore del gioco, eccetera. E poi parleremo, invece, con altri ragazzi. Che, a parer mio, sono i farmer. Più forti in Italia. Come appunto si farma, eccetera. Quindi, saranno discorsi e comunque interviste. O comunque anche due chiacchiere. Molto interessanti, secondo me. Che vi potranno sicuramente aiutare anche voi. Sia per chi è nuovo del gioco. Sia per chi, invece, è veterano. Ok. Speriamo che se ne siano andati. Eh, qua non ci hanno drappato niente. Vediamo un po' se riesco... Ecco, ecco lì. Ottimo. Va, questo qui gli ha dato un bel ciocchetto, eh. E controlla un attimo l'intorno, che non ci voglia che arrivi in avanti dell'orda. Ok, qua abbiamo beccato la tonaca, ma dobbiamo beccare anche il cappuccio, ragazzi. Prima devo avere un bersaglio. Niente cappuccio. Speriamo di trovarlo. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Mi ribadisco che secondo me... ...la parte, diciamo, alleanza-orda è uguale. C'ho questa sensazione, però, vabbè. Vediamo, adesso. Perché per il momento le missioni sono uguali. Ma aspettavo ci fosse un minimo di differenza, più che altro... ...a livello di cose da fare o altro. C'è un minimissimo differente che pensavo fosse. Invece alla fine... ...diciamo che per il momento sembra abbastanza... ...equivalente. Via, 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 via. Eh, ti pareva che mi aggravo il mondo. Via, via, via. Perché qua mi segnala ancora... ...aah... ...anche gli appunti non l'ho distrutto. Cacchio, l'ho visto adesso che devo fare anche gli appunti. E andiamo a fare anche gli appunti, allora. L'ho visto adesso, quindi probabilmente anche prima c'era da fare gli appunti... ...non gli avevo preso io la missione, non l'avevo preso. Non l'avevo vista io la missione prima. Quella degli appunti, vabbè. Fa niente, la facciamo veloce tanto. Ho bisogno di un bersaglio. Vai. Vai. L'ultimo ce l'abbiamo qua, che lo faccio subito. Minchia, come esplodano questi nemici, non esplode nessuno. Mamma mia. Ma boh. Immaginavo che arrivasse anche questo. Provavo a cliccarlo, ma non so perché non me lo facevo attaccare. Ma va bene. Aia, sta arrivando gente. Arriva gente, me ne vado via. Via, 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 via. Missione fatta, va benissimo. Ve la vedete voi. Non c'ho voglia proprio di fare PvP, ragazzi. Ok, perfetto. Andiamoci a consigliare queste missioni, che le abbiamo fatte un po'. Adesso dovremmo trasformarci, andare in infiltrati. Praticamente sì, secondo me le missioni sono pari pari. Semplicemente che ci parlano personaggi diversi, nel senso a livello di storia. Uno è Lord Mawr e l'altro è il capo dei Vorgan. Quindi... Ok, andiamo. Ah, pensavo fosse già la missione quella lì. Ok. Quindi dove dobbiamo andare? Qua. Sì. Come dicevo prima, dobbiamo per forza andare lì. E fare quella missione. Ci abbiamo anche la missione questa qua, sempre. Creazioni fragili. Che però l'avete già vista, quindi non sto a farla vedere di nuovo. Perché l'avete già vista quando ho fatto quello dell'Orda. Quindi probabilmente farò questa missione qua, rapitori cultisti, che non l'avete ancora vista. E poi questa camma la farò, per conto mio. Così siamo a posto, stiamo. Ed eccoci arrivati. Ma non ci sono neanche più i fantasmi? What? Oh, cavolo. Pensavo avevo paura che... ...mi accoppasse. Si avvicina l'ora in cui l'esiliato rivendicherà ciò che è suo di diritto. La morte giunge per l'anima di questo mondo. Preparatevi. Sfamate con le vite degli immeritevoli, la famelica fauce. Ok. Vai. Facciamo super veloce. Tanto qua è proprio questione di due secondi a fare sta missione. Via. E niente, mi sono incastrato. E con questo abbiamo finito. Perfetto, andiamoci... Andiamo a consegnare la quest. Abbiamo fatto tutto. Ecco. Quindi c'è un altro cattivo. Dove? E' Mizzica laggiù in fondo. Ciaoone. Che ci arriviamo? Sicuramente non ci arriviamo. Niente. Ora ciaoone proprio. Troppo lontano. Anche se ci provassi sono sicuro che non ci arrivo in tempo. Purtroppo quando sei... Se tu sei qua nella mappa e il nemico è qua giù, quello che appare, e il tempo comunque che tu arrivi è già morto. E' un classico ragazzi, c'è poco da dire. Comunque anche le missioni sono pari pari. Cioè nel senso non cambio. Non pensavo ci fosse veramente qualche missione leggermente diversa. In Alleantra, l'Alleanza e l'Orda, ma sono esattamente pari pari. A meno, finora. Però voglio vedere che cosa dicono alla fine. Che cosa ci dirà Manto Grigio? Ok, vabbè. Qua è possibile per farci guadagnare tempo. Ok. Facciamo sta ricognizione. Secchiamo un po' di nemici. Torniamo qua. Parliamo con l'Ai e secchiamo anche la tipa. E siamo a posto. Peccato che non possiamo già attaccare da adesso i nemici. Cioè prima dobbiamo far sì che lei parli. E poi parte la cosa. Sì, sì, parla, parla. Che tra un po' ti secchiamo. Eh, è possibile. La morte sarà l'unico potere che resta. Eh, va buono. Prima devo avere un bersaglio. Vabbè, vabbè. Questi qua fanno un bel po' di male più caldo. Che è conveniente fare su di loro. Ok. Seccato male. Vai, grandissimo. Devo avvicinarmi. Non ci arrivo. Ho bisogno di un bersaglio. È troppo distante. Troppo distante. Non sapevo che avresti detto. Sono fuori portata. Sì, ancora fuori portata, sì. Vai, dai, dai. Che ci avracciamo. Sta musichettina sembrava tipo quella della morte nera di Star Wars. Ok, seccato. Prima devo avere un bersaglio. Dai, dovremmo averlo seccato a posto. Ok. Perfetto. Abbiamo fatto anche questa quest. Sì, sì, sì. Bla, 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 bla. Ok, ok. Sì, lo so, ragazzi. La sta trollando male, ma ci sta. Allora, torniamo qua. Consegniamola a quest. Facciamo tutto. Poi vi faccio vedere. Questa qua è mediamente... Non è lunghissima come missione, in realtà. Sono tutte missioni, ribadisco che la maggior parte sembrano molto missioni che erano già state fatte. Ed erano missioni ripetibili a Nordania. Però, intanto, vediamo un po'. Ok, consegno sta quest. Hai la mia attenzione. Fai attenzione. Sì. Non conosciamo appieno la sua potenza. Ok, vai. Quando sarà il momento, manda un segnale ai nostri alleati e abbatteremo assieme questo mostro. Ok, abbattiamola. Intanto ci lanciano dardi. O almeno cerchi di arrivarmi vicino a una ciaone prima che ce la fai. Dai che la secchiamo male. Così, facendo anche questo, sia con Norda che con Alleanza, o entrambi i PG, impari con le missioni che ci sono da fare. Devo capire se hanno messo qualcos'altro in questa patch o meno. Dovrò leggermi un secondo le note della patch. Se ci fosse qualcos'altro, tipo, che ne so, quest o instance, ve lo dico. Faccio un altro video. Altrimenti, va bene così. Vai. Eh, silenziato, maledetta. Maledetta. Cioè, mia dippola è silenziato, praticamente ho conto. È silenziato. Fatemi anche curare. Che non sarebbe male. Beh, oddio, la buttiamo giù senza problemi, dai. Che palle. Ok. Grandissimo. Vabbè, ormai è battuto, dai, ragazzi. Non stiamo a raccontarcelo. Se non fa qualche casino, dai. Eccola qua. Seccata. Sì, 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 infatti. Non posso fermarlo, ma casualmente te ti ho fermato, quindi. Ciccia. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Ho paura che... Vabbè. Consigliamo sta quest. Perfetto. Eccolo che arrivano i maledetti. Andiamocene subito via. Allora, andiamo, come vi dicevo prima, a fare, diciamo, il portale per Stormwind, naturalmente. Che dovevano fare. Però, prima... Uh, c'è anche qualcuno laggiù come nemico. Eh, ma tanto sicuramente non riuscirò a prenderlo. Non riuscirò a prenderlo perché ci sono troppi dell'alleanza. Quindi faranno loro. Quindi niente, lasciamo perdere. Allora, andiamo a farci, dicevo, la missione questa qua. Rapitore cultistica. Ve lo farvi vedere appunto com'era. Visto che con l'Orda, non mi sono dimenticato poi di farlo, con Van, la facciamo almeno con l'alleanza. Così intanto la vedete. Poi tanto li recupero io tranquillamente fuori video queste cose qua, non c'è problema. Tanto il più è più che altro farveli vedere. Così almeno avete anche qualcosa di diverso che vi faccio vedere anche con l'alleanza. Oltre che con l'Orda. Ok. Allora. Andiamo a prenderci la missione. L'avevamo già letta, quindi non va a storileggere di nuovo, che l'avevamo letto con l'Orda. E mo' dobbiamo metterci qua e cercare un po' di liberare i nostri compagni. E ne arrivano miliardi adesso, state a vedere. Ad osca quanto fa male il fulmine. Il fulmine misto alla folgola della terra è veramente devastante come attacco. Porco Giuda ragazzi, mamma mia. Guardate, li posso seccare anche tutti assieme volendo queste qua, guardate. Ancora? Quanti cazzo ce n'erano qua? Vai, vai, vai. Guarda quanti sono. Prima devo avere un bersaglio. Vai, vai. Ottimo. Allora, qua è la classica cosa. Ammazza i nemici. Prendi le chiavi. Usa le chiavi per... ...aprire... ...le varie celle e sei a posto. Ok, vai. Ho seccato anche questo. Arricchiamo. Allora, qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Qua la secchiamo che è meglio. Tra l'altro abbiamo trovato subito la chiave dell'interrogatore, quindi... ...siamo abbastanza tranquilli. Uh, abbiamo completato anche quella questa lì. Ottimo. Vai qua. Cosa posso fare per te? Apri, perfetto. Eh. Vedete, io li eviterei anche se tipo qua. Il problema è che è un casino evitarli. Bisogna per forza seccarli questi, perché quando iniziano ad essere troppi... ...poi è dura tenerli a bada. Perché io potrei anche tipo portarmeli in giro, però non è esattamente comoda come cosa. Ok, ottimo. Qua non c'è nessuno. ...aperto. Via, 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 via. Via, 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 via. Qua c'è qualcuno? Sì. Via. 4d8. 5d8, se riesco, vediamo. Se riesco ad andarmene, eh. Sa che mi ammazzano. No, invece no, forse no. No, 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 non mi ammazzano. Non mi ammazzano per il momento. Che culo. Fatemi uscire dal loro ranged. Ok, perfetto. Allora, facciamo anche questo qua. Via. Via, 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 via. Ne mancano ancora due, eh. Allora, uno volendo potrei farlo sopra. E uno, se riesco a trovarlo che è libero, lo facciamo qua sotto. Ok, sì. Uno qua sopra lo posso fare. Eccolo qua. Ah, era chiù, era... Non c'era niente dentro, cacchius. Via, 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 via. Via, via, via. Fatto. Completata. Missione completata. Ok, se riusciamo a uscire dal ranged, abbiamo completato. E siamo a posto. Completata, ragazzi. Bella. E anche questa missione è fatta. Così andiamo a Stormwind. E vediamo che qua ci dice... Il buon manto grigio. Ok, facciamoci creare il portale. Che cosa ti porta qui? Ok. Tutto ciò che faccio, lo faccio per Gilneas. Allora. Questi sono cattivi per Azaci. A quanto pare, la Benshi è alleata con un potere più oscuro di quanto sappiamo. Fidati del tuo istinto. Nessun segno di Andu e no Jaina. Se non sono tenuti prigionieri nella corona di ghiaccio, può solo significare che la Benshi li ha portati nei regni della morte. Non avrò pace finché non saranno trovati. Collabora con i nostri alleati per tenere a bada il flagello. Non possiamo permettere che la minaccia arrivi ai nostri regni. Avvertirò i cavalieri della spada d'Ebano. Se c'è qualcuno che può elaborare un piano per salvare i nostri amici, quello è Bolvardo Madraghi. Quando arriverà il momento, ti chiameremo per affrontare l'oscurità e portare a casa i nostri alleati. Perfetto ragazzi, dai. Completate anche questo qui dell'alleanza. Allora, se ci sono cose diverse, ve lo faccio sapere. Se ci sono cose in più. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qua su MalesinTV. Spero vi abbia fatto piacere aver visto sia dal punto di vista dell'Orda che dell'Alleanza. E rimanete sintonizzati, perché ne vedrete ancora delle belle su World of Warcraft. E soprattutto appena uscirà l'espansione, vedremo un pochettino come portarvela, perché mi piacerebbe portarvela anche quella sul canale. Vediamo un po'. Detto questo ragazzi, alla prossima. Ciao belli, mi raccomando. Mettete mi piace, iscrivetevi. Ciao 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 ciao. E fatemi sapere nei commenti. Ciao.